È bellissimo poter uscire un po' di più e fare una passeggiata. La prima passeggiata, la prima ciclata, cose molto semplici che cominciamo a riapprezzare, sempre con rispetto delle regole. Siamo nel cuore di Piacenza, in Piazza Cavalli. La nostra città si è dovuta piegare al coronavirus, ma oggi rialza la testa. Lo fa però con grandissimo rispetto, perché tutti i piacentini che abbiamo incontrato stamattina, e sono tanti, indossavano la mascherina e rispettavano le norme di sicurezza per tutelare la propria salute e quella degli altri. Si respira un'aria di semi-libertà riconquistata dopo tanti sacrifici. Ci sono delle regole che vanno rispettate, c'è poco da fare. Noi professionisti cerchiamo di rispettare tutte le regole imposte e cercare di lavorare, perché abbiamo tutti gli adempimenti fiscali, societari e le cose. Insomma, piacevole. Noi abitiamo in centro e per noi è stato un pochino dura, perché non avendo il giardino, non avendo degli spazi esterni, privati, non vedevamo l'ora di metterci un pochino fuori. Però a confronto a chi è stato comunque ricoverato negli ospedali in terapia intensiva, è stata una passeggiata per noi. È un sacrificio giusto, è un prezzo giusto da pagare per tutti, per la salute di tutti. In Via Calzolai, tante persone in coda per entrare nei negozi di alimentari, che durante l'emergenza hanno sempre garantito un servizio. Mi sembra proprio un sogno, veramente. Oggi vado anche a camminare, perché io sono due mesi che in due mesi sarò uscita quattro volte davvero, solo per fare la spesa. E d'altra parte dobbiamo riprendersi, poi moriamo tutti di fame. La gente che è in Via Calzolai è perché ci sono i negozi piccoli, dove si fa poca coda e quindi c'è fuori la gente perché si entra uno per volta. Io sto molto in casa, ma per le necessità esco. Tanti piacentini hanno scelto il pubblico passeggio per concedersi la prima passeggiata. Libertà, libertà. Libertà che una volta c'era, adesso andrà meglio. Io uscivo perché devo fare spesa, ma molto pesante. Guardare anche i televisori, tutte le notizie che raccontano, molto pesante. Chiusi i parchi per i bambini, così come le giostre del Faxal. Si sta chiusi, però i pagamenti li abbiamo e stiamo aspettando che il Comune ci aiuti un po', come noi, come tutti gli altri commercianti.